Buongiorno da WTV News. Oggi, 12 aprile, San Giuseppe Moscati. Il 12 aprile è anche la giornata internazionale dei viaggi dell'uomo nello spazio. La data è stata scelta perché in questo giorno del 1961 Yuri Gagarin diventa il primo uomo a viaggiare nello spazio, compiendo l'impresa di orbitare intorno alla Terra. La giornata internazionale del volo spaziale umano celebra, come scrive l'Assemblea Generale nella sua risoluzione del 7 aprile 2011, l'inizio dell'era spaziale per l'umanità, riaffermando l'importante contributo della scienza e della tecnologia spaziale nel mondo di oggi. La giornata mira anche a promuovere le aspirazioni di esplorare e mantenere lo spazio esterno per scopi specifici.